Tanto diamo anche un po' di numeri, in senso tecnico. 13 milioni di italiani sono coinvolti in questo genere di attività. Quindi il giro di clienti per questo tipo di cialtroni tremendi, di truffatori dell'ultima spiaggia, è molto ampio. No, e che tutti siano truffatori non risulta. Lei è liberissima di pensare come crede, io ho la mia posizione. A mio modo di vedere si tratta di truffatori e cialtroni. Lei, casomai, ex barista fallita, è un'aspirante truffatrice. Senta, ascolti, 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 se lei osa usare questi, non ha un altro dei termini, vogliate, le persone iniziane e malate, gravi. Non esiste una responsabilità penale, collettiva, si legge alla Costituzione, perché lei deve stare attenta a quello che dice e se ne assume la responsabilità. Quindi sicuramente ci rivedremo nelle debite sedi. Ascolti, non abusi della mia pazienza perché lei ha problemi seri di tipo psichiatrico, non abusi della mia pazienza perché lei ha problemi seri di tipo psichiatrico, ripeto. Non abusi della mia pazienza perché lei ha problemi psichiatrici, siamo... alla Procura della Repubblica, accusi chiaramente una persona, si assumono le sue responsabilità, la prima persona che accuserò è lei, ci siamo lei, caro mio benedio, ci siamo, ci siamo, non può esagerare così, la persona che io denuncerò la Procura della Repubblica, lei, lei sta dando delle cose, dice delle cose nei confronti della dottoressa, esagerate, allora, chiamate la criminologa, guardi che ascolti, lei bade le sue lauree presunte cariche, le mie sono assolutamente legittime, più ne ho una in psicologia, lei ne avrà 8 mila, non si spaventa la sua, 6 ne ha lì, quindi stia bene attento a quello che dice e sappia che ci rivedremo sicuramente, stiamo tornando a qualcosa di molto serio che non merita una litte di questo ma cerchiamo di uscire, come diceva giustamente la dottoressa Brozzone, ma chi sei tu, barista fallita, va qua un minuto dopo, quando non ci sarai più, nessuno ti ricorderà di te, tu sei nulla fatto persona, tu sei nulla fatto persona, tu sei nulla fatto persona, tu sei attorno ad una tozza luminosa per essere illuminata, ascolti, ascolti, ne risponderà un magistratto, ne risponderà un magistratto, sia sereno, non sia agito, che pure anziano, però è lei che sta andando a dire delle cose, barista fallita, ma scusi ma stia scherzando, voglio dire, ma stiamo parlando di un soggetto del genere che l'aveva fallita meno, ma stiamo proprio fuori, è stata una puntata già difficile, non me la rende più complicata, diceva deve farsi curare, perché non sta bene, e glielo dico la psicologa, glielo dico la psicologa, lei deve farsi curare, e anche la sveglia, da uno bravo poi, non basta manco uno, un attimo, altro che un giorno da pecora, lei ti sta minacciando, le sto dicendo che deve farsi curare, deve farsi curare, lei dice che deve farsi curare, per cortesia, posso parlare maestro divino con la nostra candida Morvillo?